Incapaci di rispettare i tempi e le regole, voteranno oggi in Parlamento per fare fuori il controllore. Il decreto pubblico amministrazione passerà alla Camera ponendo la fiducia e finalmente la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e il Ministro Fitto si toglieranno dai piedi il controllo che la Corte dei Conti esercita sull'attuazione del PNRR. Una scenetta sconcertante. Prima il Ministro Fitto si è lamentato perché quella norma è rimasta inattuata per dieci anni prima di essere resuscitata dal secondo governo Conte. Cosa ci sia di male nell'applicare la legge rimane un mistero. Poi il Ministro ha provato a convincerci che quella norma non si potesse applicare al PNRR. Come il PNRR non debba rientrare tra i principali piani, programmi e progetti relative agli interventi di sostegno e di rilancio dell'economia nazionale, dice così la legge, è un altro mistero. Un po' in affanno allora Fitto ha provato a convincerci che i controlli sul PNRR spettino solo all'Europa. Falso anche questo. Anzi è proprio l'Europa a scrivere che gli stati membri devono adottare tutte le opportune misure per prevenire e individuare frodi, case di corruzione o di conflitti di interesse con i soldi del piano. Esattamente quello che la Corte dei Conti stava facendo per di più in un paese in cui le mafie hanno banchettato troppo spesso con i fondi europei. O forse il problema non è la Corte dei Conti, ma sono proprio i conti di questo governo che è riuscito a spendere poco di più di un miliardo da fine 2022 al 28 febbraio 2023 e che ha i 19 miliardi di euro della terza rata bloccati dall'Unione Europea proprio per l'incapacità di spenderli. Un ritardo, sentite bene, che potrebbe incidere sull'effettiva realizzazione dell'intero piano con particolare riferimento al pieno raggiungimento degli obiettivi finali. Chi lo dice? Il ministro, fitto nella sua stessa relazione. Potrebbero chiamarlo il decreto struzzo, testa sotto la sabbia per evitare le proprie responsabilità.